Buongiorno e benvenuti, questa è la segna stampa di oggi, 6 gennaio, è la Befana, vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata e che riguardano molto la politica estera, ovviamente le ripercussioni dopo il raid americano con l'uccisione di Soleimani, il numero due del regime iraniano, il generale che voleva, secondo Maurizio Molinari e non solo lui, creare quella mezzaluna scita nel nord dell'Africa, insomma le reazioni non si sono fatte attendere, l'Iran lascia gli accordi sul nucleare, facendo così capire che probabilmente potrebbe nei prossimi mesi fare l'arma di distruzione di massa, inoltre il Parlamento iracheno, a maggioranza sciita, cioè a maggioranza di quella parte del mondo musulmano vicino agli iraniani, insomma quel Parlamento iracheno ha deciso che debbano uscire subito dal territorio iracheno tutti quanti i militari di altre nazioni, sono 70 i paesi partecipanti alla missione internazionale in Iraq e una delle piccole cose che i giornali oggi scrivono ma messe così, insomma nelle pagine interne, è che questa dichiarazione letterale di una mozione del Parlamento iracheno è stata fatta anche con la minaccia da parte degli sciti nei confronti dei sunniti e dei curdi e delle altre componenti del Parlamento iracheno che se avessero votato contro questa mozione per far uscire i militari americani non solo, beh, li avrebbero ammazzati, questo è il tipo di democrazia che c'è ancora nel Parlamento iracheno, perché quando iniziamo a pensare che ci sono i cattivi americani, occidentali e lì ci sono i buoni che fanno le mozioni parlamentari, beh, insomma ricordatevi che chi vota contro queste mozioni parlamentari uscite rischia la morte, beh, insomma questo è il concetto, Conte rilascia una fondamentale intervista a Stefano Cappellini, nonostante è molto bravo il capo della politica di Repubblica, Conte è quello che è, insomma può dire soltanto le dolci banalità tipiche di Conte, bisogna fare una missione europea, guida europea, l'Italia è sempre presente, i nostri soldati però, dice, restano a dispetto di quello che altri immaginavano e poi l'altra cosa fantastica che riesce a dire Conte, veramente straordinaria, non mi lascio lusingare dai sondaggi, fantastico, pochi giorni fa su Repubblica lo stesso identico Conte aveva detto che lui continuerà a fare politica nel futuro e ha fatto arrabbiare tutti quanti, insomma quello che non si lascia lusingare dai sondaggi però ha deciso che nel suo futuro continuerà a fare politica, secondo voi perché continuerà a fare politica? Perché ci ha preso gusto, perché sa che alcuni nei sondaggi che sono ovviamente fallaci, perché i sondaggi sulla persona sono molto difficili poi da concretizzarsi quando quella persona realizza o non realizza qualcosa, come spiegano i due esempi dei tipici tecnici saltati là fuori dal cappello che poi non hanno creato dei grandi partiti, sia Dini sia Monti, poi stupendo Panebianco oggi in un pezzo devo dire interessante, dice ragazzi in tutto questo grande casino medio orientale è difficile pensare che l'Europa totalmente disunita sia più vicina all'Iran, sia più vicina alla Russia, sia più vicina alla Turchia di quanto possa essere vicina agli Stati Uniti. Direi che per il resto su un altro fronte fondamentale che è quello libico, dove quando l'Europa si è data da fare ha fatto solo minchiate, come dimostra il caso di Sarkozy, poi dopo appoggiato dagli americani di Obama, che tutti ormai riconoscono aver avuto una politica estera fallimentare di cui oggi pagiamo le conseguenze, insomma i turchi stanno iniziando ad aiutare il rappresentante dell'ONU e nominato dall'ONU presidente dell'autorità libica Serraji, lo stanno aiutando soprattutto alla luce di quello che è stato il grandissimo attentato misilistico di cui nessuno parla, in cui sono morte 30 ragazzini dell'Accademia Militare vicino a Tripoli, non sarà morto un cattivo generale considerato da alcuni di voi non un macellaio, ma 30 ragazzini che studiavano fare i mari militari, quindi potenziali macellai evidentemente per gli altri, ucciso dal generale Haftar o da suoi amici e in funzione di questo escalation militare in Libia dove veramente si combatte una guerra senza quartiere, insomma i turchi iniziano a mandare lì i militari e noi zitti e muti, i turchi stanno con Serraji che dovrebbe essere appoggiato dagli italiani, in realtà gli italiani li appoggiano, capirete un po' voi con qualche viaggetto fatto da Di Maio. I cambi di casacca sono 67 in questo Parlamento, lo calcola il Corriere della Sera, sono da 110 a 101 senatori per il Movimento 5 Stelle, da 222 a 214 parlamentari per il Movimento 5 Stelle, altro grande vittima dei cambi di casacca il PD che ha perso 17 senatori e 29 deputati, insomma a questo punto il fondo di Belpietro oggi che dice, insomma tutti se la prendono con Paragone che ha mollato il Movimento 5 Stelle, non si capisce perché soltanto lui visto tutti i cambi di casacca che ci sono stati, obiettivamente i cambi di casacca ce ne sono stati, meno che la passata legislatura, ma c'è ancora tempo visto che questa legislatura è destinata a durare. Di Maio, secondo delle indiscrizioni del giornale di oggi, avrebbe tirato fuori dal cappello un'idea geniale, geniale, e cioè la reintroduzione dell'articolo 18 e sulla prescrizione dice, Renzi è inutile che scherzi con il fuoco perché la manteniamo, fantastica l'idea diciamo di politica economica di Di Maio, invece sulla prescrizione vi segnalo un'intervista molto interessata a un rifondarolo come è Giuliano Pisapia, è sindaco di Milano, uno dei garantisti diciamo a tutto tondo da sinistra, perché effettivamente prima a sinistra ci furono i garantisti e poi a destra e sulla scena dei processi di Berlusconi ne nacquero tanti anche in Forza Italia, ma insomma la cultura garantista nasce tipicamente a sinistra e Pisapia è uno dei suoi rappresentanti più tipici e dice che il blocco della prescrizione che è previsto dal governo nel momento 5 stelle è non solo contro la Costituzione, ma del tutto inutile, perché il 75% dei processi si prescrivono prima delle fasi processuali, cioè in fase istruttoria, quindi di che state parlando? L'abbiamo detto tante altre volte, lo dice Pisapia, avvocato, ex parlamentare di sinistra, ex sindaco di Milano, ma la cosa più interessante che dice è che quando gli obiettano ma stai facendo il berlusconiano, lui dice guardi che il processo berlusconiano più tipico, che è il Lodo Mondadori, in cui Berlusconi fu prescritto, state attenti perché Berlusconi fu prescritto in primo grado, il che vuol dire che anche con la riforma Bonafede, che comunque fa schifo, la sua prescrizione sarebbe valsa perché il processo era durato troppo tempo, quindi quello che dice giustamente Pisapia, ragazzi è fumo negli occhi questa roba della prescrizione. Nel frattempo l'altra cosa incredibile di oggi è quel fenomeno della leghista prima finiana Buongiorno, dovete sapere che la Buongiorno era ministro nel passato governo con Conte e siedeva nel Consiglio dei Ministri insieme a Bonafede e insieme a Bonafede hanno fatto la legge sulla prescrizione e insieme a Bonafede l'hanno votata in Parlamento e insieme a Bonafede si erano inventati che avrebbero modificato entro sei mesi la giustizia per rendere i processi più veloci. Toc toc! O sei un genio del ma... o non sei un genio e pensi che veramente si possa riformare la giustizia e la lentezza dei processi in sei mesi, come evidentemente la Buongiorno ci sta spacciando, o sei in Malafede perché quella norma sulla prescrizione l'ha votata anche la lega e l'ha votata in particolare l'avvocato Buongiorno, quella che fa finta di essere caduta dal pero, che sapeva benissimo cosa stava votando. Oggi è accettabile che sul libero la Buongiorno dica la seguente cosa, il PD svende la giustizia ai grillini, il PD! Ma c'è veramente la faccia come... non me lo fate dire perché quella mi querela, ma insomma il PD svende la giustizia ai grillini quando questa riforma della prescrizione è stata fatta da un governo fatta da leghisti e grillini e il PD erano l'opposizione, ma veramente puoi dire una cosa di questo? La legge nasce dal voto anche della Lega e della Buongiorno e attacca il PD, cioè mettermi a me a difendere il PD ragazzi ce ne vuole veramente le corna che ci sono qua sopra, ma non è possibile che si dica una minchiata di questo tipo, vabbè l'altra grande cosa di giornata è nata una nuova eroina, Rula Jebreal, dovete sapere è una che a me mi attaccò in una maniera indecorosa, lo vedete anche sul mio sito, il modo in cui tu uomo bianco, è una di quelle che si mette a piagnucolare quando non sei d'accordo con lei, è una perfetta, come possiamo dire, rappresentante del libro di Bretton Ellis, di White, una di quelle che l'inclusività, l'autovittimizzazione, avete presente quella roba lì, insopportabile, una che non c'è né arte né parte, è una che oggi intervistata a Gadler, ho dovuto rinunciare per andare a Serremo, chissà che ha dovuto rinunciare, voglio dire non rinuncia forse a un party dove non riconosce neanche gli scrittori, come ci raccontò qualcuno, non ha rinunciato assolutamente, probabilmente ha rinunciato, non so, sì è un party, mi spiace per lei per aver fatto la serata inaugurale, però fatte tutte queste premesse, fatte le premesse che l'intervista di oggi di Lerner cosa dice? Sono un'italiana nuova, inclusiva e tollerante, certo vivendo a New York si può essere molto inclusiva e tollerante, ma lasciando perdere tutte queste vicende, depurate da tutto, ma ragazzi, ma veramente dobbiamo sprecare l'intelligenza nel discutere se deve o no partecipare una valletta a Serremo, se Amadeus è deciso che fa bene per Serremo e Rula a Shebrehal se la prendesse, ma veramente possiamo cercare di creare un fallo in area di rigore, ma questo è l'intellettuale liberale, oggi vuol pensare che un problema sia Rula a Shebrehal a Serremo, ma se l'hanno presa la prendessero, ma non si può fare una polemica su questo tipo, avete capito, non vorrei sembrare paradossale come lo sono stato prima anche nel PD, si facesse la sua serata inaugurale, facesse l'intervista a Obama o a Ofra come ha promesso, poi la giudichiamo dopo, ci è piaciuta o non ci è piaciuta, faremo tonnellate di recensioni sulle vallette, su come si sono vestite, ma non si può pensare di dire che il problema fondamentale, la facessero andare, ha deciso Amadeus, gli hanno dato un botto di soldi a Amadeus per far ben Serremo, si prendesse, se non vi piace Rula a Shebrehal cambiate canale, cambiare canale, cambiare canale, certo, la pagano i contribuenti, ma saremo portata niente tanti soldi alla Rai che non mi sembra che sia un problema, questa è la posizione che io terrei sul Rula a Shebrehal, ma i giornali in realtà sono caduti nella trappola e l'eroina dell'inclusività ha la sua ribalta, che è quello che cercava, terroristi in Francia, Spataro non crede oggi su Repubblica che ci restituiranno mai terroristi, mentre Farina ci dice sul Libero, guardate che se ci rimanda ce li mandano in bara o in barella, perché ormai hanno 80 anni e non hanno voluto scontare la pena che dovevano meritare in Italia, straordinaria, una Rula Shebrehalata che leggo sul Wall Street Journal, il McDonald di un tempo non c'è più, perché hanno cacciato l'amministratore delegato perché aveva una relazione consensuale con una dipendente di McDonald's, questa è la Corporate America, quindi capite che tipo di cultura ci portano questi qua, non si può avere una relazione consensuale in un'azienda con 20 mila persone, è arrivato il nuovo CEO e ha detto adesso si cambia tutti, oltre a non avere relazioni consensuali, e questo ci mancherebbe se si possono avere relazioni consensuali, non si va più al bar insieme nei meeting e non si fanno più bevute insieme per socializzare, questo è il grande tema della Corporate America, cioè ti devi mettere i guanti per entrare in ascensore ed è meglio che in ascensore non entri con una donna, mai che mai con Rula Shebrehal perché se la guardi male tu uomo bianco, oppure non si prende, non si offre mai qualcosa da bere a qualcuno perché magari è un tuo dipendente, un tuo collaboratore, un tuo avvocato, per carità il mondo del giornalismo sarebbe morto perché se non si tromba nel mondo del giornalismo questi qua sembra che non trombano con nessuno. Vabbè, lasciamo perdere l'ultima questione, riguarda l'economia, la cedolare secca, la cedolare secca è stata abolita sui negozi, noi zitti zitti scendiamo all'inferno come dice un grande Baudelaire, a piccoli passi, non con un passo solo, e cioè avevamo fatto una norma intelligente per cui chi aveva un negozio poteva allocarlo con un affitto anche calmerato perché pagava poche tasse, abolito da questo governo, complimenti nello silenzio collettivo. Infine Lottieri critica De Benoit e ben fa sul giornale uno scrittore conservatore, post fascista e totalmente non liberale che ha scritto anche delle cose molto intelligenti, alcune le ho recensite anch'io sulla nascita dei nuovi populismi, ma la lezioncina sul liberalismo da De Benoit proprio no, dice Lottieri e io con lui. Direi che per il momento è tutto, vi do appuntamento da McDonald's dove mi prenderò un bel Big Mac alla faccia di quelli che non vogliono relazioni consensuali. Viva il Big Mac! Ciao!